Potrebbero essere i punti per garantire la legalità a Catania? Sì, effettivamente la legalità è un argomento che ha mille risvolti. Si parte dalle piccole illegalità diffuse di ogni giorno, anche superare un semaforo con il rosso è già una illegalità, alle grandi illegalità. La Feder Consumatori si pone a tutela dei cittadini, utenti, contribuenti e consumatori proprio per evitare che vengano presi dal circolo delle illegalità, possibilmente anche da enti e aziende che oggi in un mercato totalmente liberalizzato tentano di vessare attraverso mille tentazioni, così possiamo chiamare, il cittadino stesso.